musica 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 non mi preoccupate ragazzoni mi riporto a casa intanto questo camion me lo centriamo in pieno guarda ecco 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 prende le buche a pane a pane musica 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 come è che ci fermiamo sempre nella spazzatura perchè siamo fermi abbiamo il biondo sul il biondo sul biondo come il biondo sul biondo? il biondo sul biondo ma dove è adesso? scesbituoso mio biondo musica 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 chi è quello? è l'ara non andare subito a prendere capelli ma devi massaggiare così così ah un profumo strano che a me non piace questo profumo sarà quello della musica musica eravamo in bagno gli abbiamo pregato le chiavi al borgne del full borgne poi io glielo lanciate a Sergio Sergio stava facendo la pipì le abbiamo bagnate tutte adesso io non so più dietro il biondo stava facendo pipì è caduto nella tazza tagliele tagliele tutto non c'è non c'è il domenico spettacolo da le propietà first of all Mario cosa fai adesso? butti giù? no ha detto che lo butta giù comunque noi la ripetiamo fin quando non lo butta giù ceroso ceroso prende le buche guarda 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 guard che fai con il macete? se vuole in inglese sa dire yes se vai dritti tu fai per poco guarda ti do una mano a caricare? si o sai da fuori con dei shallà io ho finito prima degli anni non fa solini adesso si va ahhhhhhhhh Ahahahahahahha Ahahahahha Ahahahahha Ahahahahahah Oh no Oh no Oh no Oh no Che baron si può stare tranquillo No Ahahahahha Grazie a tutti.